Il Vangelo della ventisesima domenica per annum, secondo Marco, ci presenta gli Apostoli che presentano a Gesù una questione, cioè dice il Vangelo che hanno trovato uno che scacciava demoni nel nome di Gesù e loro gliel'hanno vietato e Gesù dice di non farlo. Che cosa può dirci questo brano del Vangelo, o perlomeno questo passo del Vangelo? Che dobbiamo riconoscere il bene sempre innanzitutto, da qualunque parte venga. Gli Apostoli, anche loro, non devono pensare di essere gli unici a operare il bene, ma dall'altra parte certamente è vero che va prestata attenzione ai falsi incantatori, agli imbroglioni, purtroppo ce ne sono sempre stati, ce ne sono ancora, che approfittano dell'ingenuità delle persone. Ma al di là di questo, credo che Gesù voglia dire che non dobbiamo pensarci gli unici possessori del bene, ma essere attenti a valorizzare il bene ovunque questo si presenti. Perché quando non lo facciamo si crea effettivamente uno scandalo, come il rifiuto del bene. E l'ostacolo, l'oscandolo è un ostacolo, è un impedimento alla fede. Gesù dice preoccupatevi invece di fare voi il bene, non tanto di condannare gli altri, ma preoccupatevi anche voi di fare il bene, anche se è piccolo, dice come un bicchiere d'acqua per esempio. Perché altrimenti lo scandalo di cui parla Gesù diventa presente. E lo scandalo è una forma di fatto di ipocrisia, quando c'è ipocrisia c'è scandalo, diventa l'ipocrisia uno scandalo per la fede di molti. Bisogna togliere quindi ogni scandalo, quindi togliere l'ipocrisia. Gesù dice nel Vangelo che bisogna tagliarla, cioè quindi un'azione decisa, perché l'ipocrisia anche oggi è un vero ostacolo alla fede, è una mancanza di coerenza. Purtroppo questa mancanza di coerenza c'è, ma non dobbiamo neanche negare che quando c'è crea uno ostacolo. E tagliare innanzitutto questa ipocrisia però dentro di noi, prima ancora che pensare a tagliarla negli altri, perché è facile volerla tagliare negli altri, ma dimenticare che dobbiamo tagliarla dentro di noi. E allora dobbiamo tenere presente che anche noi possiamo allontanare da Dio con la nostra mancanza di coerenza, con il nostro presupporre di essere noi possessori di tutto. Attenzione sì, e forse il Vangelo di oggi ci chiede di fare anche noi un piccolo gesto in più per essere coerenti, maggiormente coerenti nella nostra fede. Lo possiamo fare con la grazia di Dio e con il nostro impegno, maggior coerenza e maggior valorizzazione del bene ovunque ci sia, perché insieme abbiamo a camminare verso il Signore.